Francesco Sole e Giulia Cavaglia, storia finita. L'indizio non lascia dubbi la storia d'amore tra Francesco Sole e Giulia Cavaglia sarebbe giunta al capolinea. È questa l'indiscrezione che ha iniziato a circolare, sempre con maggior forza, nelle ultime ore, sono stati infatti molti gli indizi captati dai fan di entrambi che, giorno dopo giorno, hanno iniziato a comprendere che tra i due le cose non stessero procedendo poi così a gonfie vele. Ovviamente il personaggio televisivo e la ex tronista di Uomini e Donne non hanno proferito alcuna parola a riguardo, rendendo d'obbligo il condizionale nel parlare di una rottura tra i due. L'indizio della rottura a dare conferma ai fan di Francesco Sole e Giulia Cavaglia che tra i due si sia rotto qualcosa e intervenuto Instagram. Gli più attenti, infatti, si sono accorti che i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente sul social network. Questo, già da sé, potrebbe essere un indizio particolarmente emblematico della fine della loro storia, visto quanti entrambi sono attivi sulle loro pagine. Inoltre da diverso tempo i due non solo non si immortalano assieme nelle storie di Instagram, ma neanche si sono mai menzionati reciprocamente. Anzi, spesso i loro post e le loro storie sono carichi di frecciatine vellate, che fanno pensare che qualcosa si sia rotto, e in modo particolarmente brusco, il silenzio di Francesco Sole e Giulia Cavaglia ai fan di Francesco Sole e Giulia Cavaglia sembra chiaro infatti che, se davvero la storia tra i due è ormai giunta al capolinea, le ultime fermate siano state piuttosto cariche di tensione. Se avessero infatti deciso di interrompere la loro storia in modo cauto e di comune accordo, ne avrebbero probabilmente parlato con i rispettivi fan, spiegando a tutti che le cose non funzionavano più ma che, nonostante ciò, rimaneva la stima reciproca tra i due, lo avrebbero fatto con qualche storia su Instagram, o con qualche post, o forse, più semplicemente, la ferita è ancora troppo fresca per riuscire a parlarne liberamente. Chissà, siamo certi, però, che presto ne sapremo di più, nel bene o nel male. Grazie a tutti.